Giovanni Pascoli nacque nel 1855 a San Mauro di Romagna e morì nel 1912 a Castelvecchio di Barga, in provincia di Lucca. Piccola curiosità, entrambi i paesi hanno preso il nome del poeta, quindi oggi si chiamano San Mauro Pascoli e Castelvecchio Pascoli. Quarto di dieci figli crebbero una famiglia agiata, il padre era amministratore dei conti presso i principi di Torlonia. Ebbe anche un'infanzia abbastanza felice, tuttavia a partire dall'età di 12 anni la sua giovinezza venne segnata da gravi lutti. Importantissima e assolutamente da ricordare la morte del padre Ruggero, ucciso da ignoti da sconosciuti il 10 agosto 1867. Questo episodio non solo segnerà il carattere di Pascoli, ma 10 agosto è anche la sua poesia più celebre e importante. I lutti però continuano e poco tempo dopo muore anche la madre Caterina e la sorella Margherita. Qualche anno dopo altri due fratelli, Luigi nel 1871 e Giacomo nel 1876. Tutti questi lutti, questi traumi lo segneranno profondamente, lo ripetiamo, e anche da adulto tenterà di ricostruire quel nido familiare che aveva perso. Nel 1873 riceve una borsa di studio presso l'Università di Bologna e fu allievo di un altro grande poeta, Giosuè Carducci. Tuttavia le difficoltà economiche lo preoccupano, trascura gli studi e partecipa anche a diversi movimenti socialisti, che gli provocheranno l'arresto e verrà imprigionato per tre mesi nel 1879. Grazie anche all'intervento di Carducci esce di prigione, riprende negli studi e si laurea nel 1882. Diventa professore in diversi licee a Matera, a Massa, a Livorno e ora che ha risolto le sue difficoltà economiche chiama a vivere con sé le sorelle Ida e Maria per ricomporre quel nucleo familiare. Tuttavia Pascoli è molto geloso e possessivo verso le sorelle e nel 1895 si sente addirittura tradito e abbandonato quando una delle sorelle Ida decide di sposarsi e andare a vivere via di casa con il marito. Pascoli non si sposerà mai e vivrà il resto della sua vita con la sorella Maria, che si prenderà cura di lui e si occuperà anche delle sue opere dopo la morte. Nel 1891 pubblica Mirice, che è la raccolta poetica più importante di Pascoli, e nel 1897 il fanciullino. Nel 1898 è nominato professore all'Università di Messina, di Pisa e infine a Bologna, al posto del maestro Carducci. Passiamo alle opere. Mirice è una raccolta di 22 poesie, che diventeranno 156 nelle successive edizioni. E qui troviamo alcune delle sue poesie più famose, come appunto il 10 agosto. dedicata alla morte del padre. Della poesia vi lascio il link in descrizione, ma brevemente colpisce questo parallelismo tra una rondine che tornava al nido con il cibo per i suoi rondinini, che viene uccisa da un colpo di fucile. E allo stesso modo anche un uomo, cioè il padre di Pascoli, mentre tornava a casa, fu ucciso da sconosciuti. Era il 10 agosto, e come sapete il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, cioè la notte delle stelle cadenti. Pascoli se le immagina come delle lacrime, come se questo cielo piangesse per tutta la malvagità che si trova sulla terra. Altre poesie famose sono il Bove, Novembre, La Siepe, La Siola, Il Lampo, anche qui link in descrizione. I temi sono soprattutto la natura, gli affetti familiari, la morte, come la morte del padre, il dolore, la nostalgia per il passato, i ricordi dell'infanzia. E il titolo Mirice richiama questi piccoli arbusti, le tamerici, in latino invece Mirice, dall'aspetto umile e semplice, così come vuole essere la poesia di Pascoli. Per il titolo Pascoli prese proprio spunto da un verso delle Bucoliche di Virgilio, in cui si dice che non a tutti piacciono gli arbusti e le umili Mirice. Per quanto riguarda Il fanciullino, pubblicato nel 1897, si tratta di un saggio, ed è il vero e proprio manifesto della sua poetica. Lo vediamo meglio tra poco. Altra opera da ricordare sono i canti di Castelvecchio, anche qui poesie delle piccole cose, quindi i temi sono quelli della natura, del mondo agreste, dei ricordi dell'infanzia e, tra le poesie più famose, Gersomino notturno. Abbiamo poi i poemetti, che si dividono in primi poemetti del 1897 e nuovi poemetti del 1909. Nel 1904 abbiamo i poemi conviviali e da ricordare anche la produzione in lingua latina, come i Carmina, quindi poesie scritte in latino. Per quanto riguarda la poetica, lo ripetiamo, Pascoli è il poeta delle piccole cose, oggetti umili, quotidiani, semplici e, anche dal punto di vista stilistico, fu un grande innovatore, aprendo la strada per quella che sarà la poesia del Novecento. Il fanciullino, come detto, è sicuramente il manifesto della sua poetica. È un saggio. Si compone di 20 capitoli e fu pubblicato la prima volta sulla rivista Il Marzocco di Firenze. Il fanciullino, quindi, è questa voce, quella parte ingenua, infantile, autentica, presente in ognuno di noi, che è capace di emozionarsi, di meravigliarsi per le cose semplici, di vedere oltre l'apparenza delle cose. Un po' come se guardassimo quelle cose per la prima volta, esattamente come i bambini. Il fanciullino è tipico dei bambini, tuttavia, crescendo, questa voce viene soffocata, si mette da parte, per far posto alla razionalità. Se la maggior parte delle persone, crescendo, perde questo fanciullino, invece nel poeta resta e continua a sentire, ad ascoltare questa voce. Quindi, continua a vedere il mondo con gli occhi di un bambino, a stupirsi, a meravigliarsi per le cose semplici. Ed è capace, quindi, di svelare il mistero nascosto delle cose, questa realtà misteriosa, oltre le apparenze, non altrimenti conoscibile, attraverso i classici strumenti della razionalità o della scienza. Tra i temi più ricorrenti in Pascoli c'è sicuramente il tema della natura, della campagna, dell'ambiente campestre, per cui le piante, i fiori, ma anche animali, oggetti umili, quotidiani, diventano simboli, analogie, metafore della condizione umana, degli stati d'animo del poeta. Ad esempio, l'arratro abbandonato nella poesia lavandare diventa simbolo della solitudine, della tristezza, o il verso Q dell'assiolo diventa presagio di morte. Altra cosa ricorrente è il motivo autobiografico. Per esempio, nel 10 agosto, abbiamo già visto, si parla della morte del padre, ma anche i lutti familiari, il dolore, i ricordi dell'infanzia e soprattutto il nido familiare. Il nido familiare è il simbolo della casa, il luogo sicuro, protetto dagli affetti familiari, mentre fuori il mondo è pericoloso, cattivo. Ricordate quello che era successo al padre. Per quanto riguarda lo stile, Pascoli fu un grande innovatore e utilizzò moltissime figure retoriche, soprattutto l'onomatopea. Cioè, quelle parole o gruppi di parole che evocano il suono di un oggetto, di un animale, di un evento. Ad esempio, il Q dell'assiolo, il gre-gre delle ranelle, il don-don delle campane. Il suono, quindi, la musicalità delle parole, delle sue poesie, non solo richiamano le cose, e evocano oggetti, ma suscitano emozioni. Altra caratteristica di Pascoli è il linguaggio, che è semplice, quotidiano. Tuttavia non mancano termini rari e ricercati, e anche termini scientifici. Soprattutto quando parla di piante e fiori, sembrano quasi parole di un esperto botanico. Per quanto riguarda la corrente letteraria, Pascoli è sicuramente uno dei più importanti simbolisti, quindi lo possiamo inserire nella corrente più ampia del decadentismo, che, riassumendo molto molto velocemente, vede la realtà come misteriosa, in cui il poeta cerca di svelare il mistero nascosto delle cose, attraverso strumenti non razionali. E altra caratteristica comune a tutti i decadenti è l'antipositivismo, cioè questa sfiducia nella scienza e nel progresso tecnologico. Ultimissima cosa è che anche Pascoli, come D'Annunzio, come Carducci, fu considerato al suo tempo un poeta vate, cioè un poeta veggente, interprete e guida dei valori e degli ideali dell'intera nazione.